Buonasera, buonasera e bentornati nella zona bianca di Rete4. Si è iniziata ufficialmente, siamo in piena, crisi di governo. Da questa sera voglio subito parlarne, senza preamboli, con il dealer di Italia Viva, Matteo Renzi. Grazie Renzi per aver accettato il nostro invito, grazie per essere con noi in questa serata particolarmente dedicata per la vita del nostro paese. Allora, l'abbiamo detto, Draghi si è dimesso, eppure lei proprio oggi aveva chiesto di andare avanti, di andare avanti anche senza i 5 Stelle. È andata diversamente, perché? No, Draghi ha fatto quello che doveva fare. Diciamo le cose dal punto di vista istituzionale. Nel momento in cui c'è un voto di fiducia, in cui una componente importantissima vota contro o si astiene, è dovere del Presidente del Consiglio dei Ministri prendere atto e andare al Quirinale. Quindi Draghi ha fatto esattamente quello che doveva fare. Io poi sono uno di quelli che farà di tutto da qui a mercoledì, perché ci sia o il rinvio alle Camere, tecnicamente si chiama così, cioè il fatto che Draghi possa andare avanti, o meglio ancora un Draghi bis, senza, guardi la dico qui fuori dall'istituzionalità, senza quella vergogna pubblica che è il Movimento 5 Stelle. Perché? Fare quello che hanno fatto i 5 Stelle oggi è scandaloso. Vede, quando uno lascia un governo si dimette, e invece questi non hanno avuto neanche il coraggio di dimettersi. Stamani mattina il Ministro grillino dei rapporti col Parlamento in Aula ha posto la questione di fiducia e la capogruppo grillina ha detto che non avrebbero votato a favore. Oggi c'era un Ministro grillino, senatore, Patuanelli, che non è venuto a votare la fiducia al suo governo. Sa come si chiama questa? Questa si chiama viltà, sono dei vigliacchi, perché lei lo ha detto all'inizio, chi paga il conto di questa vergognosa scelta? La gente. Quando lei dice 31 miliardi di euro bruciati in capitalizzazione, in borsa, dice soltanto una delle tante cose. Tutti i giornali di tutto il mondo stanno dicendo quello che è successo. Allora, io dico che il Movimento 5 Stelle è una sciagura per la politica italiana. E io sono tanto contento di aver mandato a Casa Conte un anno e mezzo fa, ma ho, come dire, un dolore forte per quello che è accaduto oggi al Senato. Lei ha fatto riferimento alle mancate dimissioni dei ministri pentastellati dal governo, ricordando implicitamente le dimissioni dei suoi ministri quando cadde il governo Conte. E però voglio farle vedere il tweet di Letta, perché voglio capire se la pensate allo stesso modo, lei è segretario del PD, perché Letta fa capire che potrebbe esserci un Draghi bis. Le chiedo, è fattibile? Mi sa che lei pensa che sia fattibile, ma lei pensa che Letta potrà fare a meno dei 5 Stelle? Io credo che Letta voglia tenerli ancora dentro. Oggi la priorità è continuare ad avere Draghi presidente del Consiglio, perché parliamo un linguaggio chiaro. Nei prossimi mesi non andrà tutto liscio come l'olio. Abbiamo una questione energetica, lei ne ha dato conto più volte nel programma, che è complicata. Abbiamo una situazione di difficoltà che non dipende dai governi, ma che si chiama siccità, e la mancanza di materie prime porta a una carestia che produce immigrazione. Se a questo si somma la guerra, una pandemia che ancora non è sconfitta, la prima cosa che devi fare in questa situazione è dire come si fa ad aiutare la gente che soffre l'aumento del costo della vita con una cosa che si chiama inflazione, come si aiuta la povera gente, intanto mettendo quello più bravo di tutti a fare, come posso dire, da estremo difensore il portiere che ti evita il gol. Chi è il miglior portiere al mondo oggi nei leader di governo? Draghi. Lo dicono tutti, tant'è che sulla stampa internazionale da sei ore, da cinque ore, è un continuo lancio di notizie dicendo incredibile, notizia clamorosa, se ne va il primo ministro italiano. Io penso che la mia priorità sia quella di salvare l'esperienza di Draghi, poi Letta probabilmente, da Letta mi divide il fatto che lui continua a perdonare un po' troppo Conte, io penso che i Cinque Stelle oggi abbiano fatto una cosa veramente incredibile. Le ripeto, vuoi aprire una crisi? Almeno abbi la dignità di dimetterti, aprono la crisi però si tengono aggrappati, abbarbicati, inchiavardati alle poltrone, questo è veramente uno schiaffo alla gente che non ce la fa arrivare alla fine del mese e che vede l'inflazione crescere. Ecco, però Renzi, dobbiamo essere laristi. Allora, se Draghi insiste nel suo voler dare le dimissioni, che succede? Abbiamo un'alternativa, un altro governo, si va al voto a proposito dell'altro governo, oggi circola il nome di Amato, il Presidente della Corte Costituzionale. Che scenari intravede lei invece? Tocca al Presidente della Repubblica, io credo che in questo momento l'unica alternativa vera, reale, a Draghi sia Draghi. Cioè, poi ci può essere un governo tecnico, un governo quelli che nella Prima Repubblica si chiamavano governi balneari, un governo che accompagna il voto, queste sono tutte tecnicalità che spettano al capo dello Stato, quindi noi non facciamo il mestiere di Mattarella. Però il punto fondamentale è che ci sono qualcosa come cinque giorni, quattro giorni per poter dire con chiarezza che ci vuole un accordo su tre questioni. Uno, sulla gestione del PNRR, cioè dei soldi che l'Europa ci dà. E se non c'è Draghi, l'Europa si fida poco. Due, una legge di bilancio, soprattutto sul costo dell'energia è sull'inflazione, perché chi ci segue da casa lo sa che il carrello costa di più di due mesi fa. Possiamo dire alla signora casalinga che ci segue da casa o all'operaio o all'impiegato guardate che in America sono arrivati dei dati dell'inflazione che dicono che l'inflazione è al 9,1%, quindi malcomune mezzo caudio. Ma chi sta a casa e c'ha il problema del carrello o chi va al distributore è un pieno di coste al doppio. Non gliene frega nulla dell'inflazione in America. È lì che dice ehi, datevi una smossa. E quindi la seconda questione della legge di bilancio, la terza per me fondamentale, è il ruolo, la postura dell'Italia in Europa. Insomma, Conte rispetto a Draghi, Draghi è uno statista. Conte era uno statista, via. Allora, la domanda che si fanno in tutto il mondo e proviamo a farcela anche qui nella zona bianca è perché Conte lo ha fatto. E la domanda ce la poniamo ascoltando insieme questa clip proprio di Conte. Il Movimento 5 Stelle ha dato sostegno a questo governo sin dall'inizio con una votazione. Tutti gli iscritti sono stati invitati a sostenere questo governo per la transizione ecologica. Transizione ecologica e giustizia sociale. Questi sono i pilasti. Il Movimento 5 Stelle è entrato a sostenere questo governo per questi obiettivi. quindi se poi si crea una forzatura e un ricatto per cui si mettono norme che sono contro la transizione ecologica in un decreto che non c'entra nulla in un decreto aiuti sostegno a famiglie e imprese voi capite che noi per nessuna ragione al mondo daremo voti per nuove trivellazioni per costruire nuove centrali a carbone per costruire inceneritori. Non è nel nostro DNA ma eravamo chiari sin dall'inizio se qualcuno ha operato una forzatura si assuma la responsabilità sottolino la responsabilità di questa pagina che è stata scritta ieri e la pagina che è stata scritta ieri la pagina iniziale l'introduzione è stata nel Consiglio dei Ministri quando i nostri ministri hanno partecipato al voto sono stati costretti a non partecipare al voto quindi allora se noi prendiamo degli impegni con il governo col Parlamento con i cittadini siamo coerenti chi si può permettere di contestare questa linearità e questa coerenza cosa deve succedere? Noi siamo il Movimento 5 Stelle ha una ragione perché noi siamo fuori dall'informazione pubblica non chiediamo posti non chiediamo nomine nulla noi chiediamo ovviamente di rispettare quello che è un programma definito all'inizio transizione ecologica urgenza della questione sociale che è esplosa adesso Istat e Ips ci dicono che il nostro paese soffre e soffrirà sempre di più o si hanno risposte vere strutturali importanti oppure nessuno può avere i nostri voti grazie e allora Renzi l'ho vista scuotere decisamente la testa alle parole di Conte ma lui parla di giustizia sociale transizione ecologica quali sono i veri motivi di questo strappo? Guardi la cosa più credibile di quella clip è il cartello di divieto di sosta con rimozione forzata che c'era dietro la faccia di Conte è l'unica cosa credibile di quello che abbiamo visto oggi loro hanno rotto perché c'è la previsione di permettere a Gualtieri che è il sindaco eletto di Roma di fare un termo valorizzatore allora a Roma c'era una sindaca grillina che si chiamava e si chiama tuttora Virginia Raggi Virginia Raggi ha fallito tant'è che i cittadini l'hanno mandata a casa e Roma io parlo da Roma oggi è una città dove la monnezza è aumentata con la Raggi per eliminare la monnezza si è deciso di fare un termo valorizzatore se non fai il termo valorizzatore i rifiuti prodotti dai romani vanno su dei camion che inquinano e vanno a Vienna dove c'è un termo valorizzatore a Copenhagen dove c'è un termo valorizzatore a La Cerra a Brescia allora fare un termo valorizzatore è sacrosanto i 5 Stelle hanno detto di no cioè hanno insozzato Roma e poi vogliono impedire agli altri di pulirla numero uno numero due Giuseppe Conte ha fatto il reddito di cittadinanza che è una misura non a favore della povertà è una misura che è servita in questi anni a un sacco di gente per truffare lo Stato e persino una legge che aveva un senso quella di agevolare la ripartenza delle costruzioni come il super bonus è stata scritta talmente male che ci sono stati 6 miliardi di euro di truffe tra super bonus e bonus facciate allora di che cosa stiamo parlando cosa ci viene a raccontare Conte se vuol dare una mano a chi non ce la fa la povera gente il modo migliore è mandare a casa Draghi che è l'unico che ci fa da ombrello sui mercati internazionali la verità è che Giuseppe Conte da quando è stato cacciato da Palazzo Chigi e io come dire quella vicenda ovviamente me la ricordo bene da quel giorno lì cova un sentimento di rivincita di vendetta e oggi ha pensato di consumare la sua vendetta in questo modo ripeto semplicemente un po' vile un po' vigliacco perché almeno si fossero dimessi invece stasera i sottosegretari dei 5 Stelle sono lì aggrappati alla poltrona tutti non ce n'è uno che molli la seggiola veramente una triste fine per quelli che volevano rinnovare la politica lei sta sottolineando questo aspetto che è sicuramente importante Renzi qui a due secondi fa lo ha definito uno stegista qualche giorno fa l'aveva definito un clown che non fa più ridere sono parole durissime che sottoscrive ancora? ne vorrei dire molte altre però siamo in zona protetta guardi che qui il problema non è che riguarda me a me il Conte non ha fatto niente di male le ha fatte gli italiani cioè si può aprire una crisi di governo ma si deve raccontare come la si vuol chiudere io ho fatto una crisi di governo contro Conte ma ci ho portato Draghi e ne sono così orgoglioso e vorrei vedere in faccia quelli che un anno e mezzo fa mi accusavano per questo invece Conte non lo ha fatto perché ha un chissà quale disegno la realtà è che il Movimento 5 Stelle ha combinato un sacco di pasticci guardi è molto triste dirlo perché ognuno può avere e deve avere rispetto per le altre forze politiche ma quando si arriva al punto durante una situazione come quella in cui noi stiamo vivendo di arrivare a dire mi dimetto o non mi dimetto tenere il paese sospeso lei immagini domani cosa accadrà in borsa 4% in meno oggi domani io non oso pensare a come andrà lo spread ma Renzi al di là della borsa guardi le faccio vedere dei dati sono i dati dell'Istat sugli italiani non solo su quelli che investono la maggior parte la stragrande maggioranza degli italiani possiamo vederli allora abbiamo questo cartello che non c'entra nulla riguarda i 172 voti con i quali è stato approvato il DL aiuti la fiducia eccolo qua allora stipendi inferiori a 780 euro per 4 milioni 300 mila italiani praticamente il 28% e questa è l'Inps che ce la racconta questa cosa quindi al di là dello spread al di là della borsa al di là dei mercati questi sono i dati più importanti questo è il discorso che gli italiani affronteranno domani senza un governo che dovrà fino a mercoledì almeno svolgere l'ordinaria amministrazione sono totalmente d'accordo a me è capitato per tre anni di fare il presidente del consiglio dei ministri lei ricorderà che la prima cosa che ho fatto il primo consiglio dei ministri il primo la prima conferenza stampa era quella di aumentare al ceto medio basso allora era per chi guadagnava meno di 1500 euro netti di 1000 euro l'anno che erano i famosi 80 euro al mese netti perché perché la gente non ce la fa più in più l'inflazione tu puoi anche dire con le stime dell'Inps dell'Istat di tutti gli istituti di statistica che l'inflazione è del 6% ma la gente nel carrello della spesa la vede molto più forte perché però io parlo anche della borsa perché per creare posti di lavoro bisogna far sì che ci siano le aziende che investono in Italia se si crea un clima di sfiducia poi ci sono i licenziamenti e vedete tutte le volte che c'è un governo che sta finalmente facendo bene che sta finalmente recuperando credibilità internazionale sembra ci sia una nuvolina di fantozzi dove ce l'andiamo a cercare io sono molto convinto che la vera preoccupazione oggi sia il salario dei lavoratori ma per questo mi faccia dire è assurdo continuare ad avere un meccanismo in cui la gente che lavora guadagna poco e talvolta quello stipendio è paragonabile a un reddito di cittadinanza o poco di più del reddito di cittadinanza per non lavorare allora paghiamo di più chi vuole lavorare paghiamo di più poi naturalmente se uno non ce la fa ed ha bisogno di un aiuto lo aiutiamo ma chi rinuncia a lavorare magari perché si fa qualche serata in nero perché alla fine c'è tanta gente che si fa due conti in tasca e non prende offerte di lavoro ci sono tante aziende che non trovano il personale lo abbiamo raccontato spesso qui proprio nella nostra zona bianca e queste cose sono frutto dei 5 stelle di Giuseppe Conte è tutto così dopodiché è come dire è un punto fondamentale io e Conte abbiamo un'opinione diversa del mondo io penso che si debba investire sull'educazione sulla carta dei diciottenni sugli interventi per i musei teatri lui ha fatto i banchi a rotelle è proprio un mondo diverso però non ho un problema con lui ho un problema con il fatto che politicamente ha distrutto oggi una parte della credibilità che Draghi aveva dato all'Italia e questo è triste per tutti anche per quelli che non voteranno mai per me o per i partiti che sostengono Draghi allora facciamo così torniamo a parlare di politica perché in questa situazione che ha portato a questa crisi di governo non si è capito forse non è chiaro ancora adesso il ruolo del partito democratico ci aiuta a capirlo perché c'è questo campo largo che alleggia e che in qualche modo condiziona anche le mosse di Letta del suo partito io sono uscito dal PD quindi non è elegante che sia io a parlare della linea politica del PD il limito a dire questo un anno fa il partito democratico faceva le card sui social veniva nelle trasmissioni come la sua faceva le interviste sui giornali organizzava le feste dell'unità per dire che Giuseppe Conte era il fortissimo punto di riferimento della sinistra del mondo progressista si ricorda dicevano così lo consideravano una sorta di guru un santone il nome tutelare della nuova sinistra al di là che poi Conte è lo stesso che ha firmato i decreti Salvini o tante altre questioni che ora non affrontiamo però la conclusione è che il PD stava con Conte ho l'impressione l'ho vista anche oggi durante il mio intervento e ascoltando l'intervento dei colleghi in Senato che tanta gente del PD si stia domandando ma come abbiamo fatto a prendere sta sbandata ma lei in che campo sta Renzi sinistra o destra? guardi io penso che oggi ci sia una destra in campo a me non piace però devo riconoscere che Meloni Salvini e Berlusconi litigano perché non ci prendiamo in giro se le danno di santa ragione però se si andasse alle elezioni oggi starebbero insieme da quest'altra parte io non ho capito se il PD vuole stare ancora con i 5 stelle o no e questo passaggio è importante è fondamentale bisogna che la dica proprio chiara io l'ho sempre pensato ma dopo quello che è successo io non potrò mai stare alle elezioni con chi come ha fatto oggi Giuseppe Conte accoltella la classe media italiana con una scelta come quella di oggi e quindi non potrà stare neanche con un PD alleato con Conte voglio sperare che il PD recuperi lucidità dopodiché che cosa farà il PD non è dato saperlo perché un anno fa si lamentava di me che facevo cadere Conte oggi è tutto il giorno che stanno cercando di riportare Conte al buon senso però guardi a me di Conte ne abbiamo parlato anche dopo non gliene importa per me la priorità è Mario Draghi è riportare Draghi a fare il presidente ha parlato di Meloni ha parlato di centrodestra voglio farle ascoltare la leader di Fratelli d'Italia e poi la commentiamo insieme noi in questa legislatura abbiamo visto tre governi di fila nati nel palazzo morti nel palazzo che di risposte che di risposte delle quali c'era bisogno non sono stati in grado di darne semplicemente perché c'è stata una classe politica che ha privilegiato il suo destino rispetto a quello della nazione io penso che sia ormai sotto gli occhi di tutti che il problema è il Parlamento e che modificando l'ordine degli addendi il risultato non cambia quindi noi chiediamo elezioni subito banalmente perché è l'unica cosa seria e responsabile da fare questa nazione è in una tempesta noi non ci possiamo permettere che in una situazione nella quale abbiamo la guerra la pandemia i prezzi dell'energia che salgono quelli delle materie prima non ne parliamo una povertà crescente il rischio di una crisi alimentare siamo lì per giorni con un governo immobile a tentare di mettere d'accordo partiti che dopo aver tradito tutto quello che avevano detto oggi cercano di ricostruirsi una virginità io sono pronta a governare sicuramente noi siamo già per quello che ci riguarda come fratelli d'Italia concentrati a sfidare il PD di Enrico Letta speriamo che i nostri alleati vogliano darci una mano allora Renzi lei ha continuato a dire per tutta questa nostra intervista che l'Italia non può fare meno di Draghi Meloni coerente da sempre dice bisogna andare subito a votare per lei il voto in questo momento è all'orizzonte c'è una eventualità l'eventualità c'è nel senso che o si riesce a convincere Draghi a fare gli ultimi dieci mesi o è evidente che si va a votare grazie a Conte quindi questa eventualità alla sua domanda rispondo sì c'è dopodiché però onestà intellettuale vuole io sono forse la persona più distante da Giorgia Meloni credo però che la potrebbe riconoscere che il problema non è questo Parlamento o un altro perché la Meloni non è una arrivata ora è una che fa politica da una vita è una che ha fatto la vicepresidente della Camera vent'anni fa quindici anni fa nel 2006 quindi quindici anni fa il punto fondamentale siccome lei sa come funzionano queste cose qui c'è un problema di regole guardi non voglio farla lunga a quest'ora anche perché giustamente la nostra platea vuole risposte sull'aumento del caro vita però qui c'è un problema di democrazia che dà per tutto perché in Giappone l'ex premier viene ucciso per la strada Abe Shinzo perché nel piccolo Sri Lanka succede di tutto in questi giorni perché nella grande Unione diciamo negli UK nel Regno Unito c'è una situazione di tensione ci sono le dimissioni perché c'è tensione un po' in tutte le democrazie il punto è che in Italia tutte le volte che si va a votare non c'è un effetto tra il voto e il governo perché? perché abbiamo un problema che si chiama riforma costituzionale io ci ho perso la poltrona su questa roba perché volevo fare le riforme costituzionali e la Meloni allora votò se si fossero fatte quelle riforme oggi avremmo un sistema in cui chi vince governa allora il passato è passato scurdammoci ho passato chi ha avuto ha avuto chi ha dato ha dato però il problema che io vorrei porre alla Meloni a Salvini a Letta a tutti i vari leader dei vari partiti è guardate noi si può anche andare a votare a ottobre tanto se non si va a ottobre si va a marzo a maggio ma c'è un problema dobbiamo fare un patto costituzionale per fare le riforme perché non era un'impuntatura di quel testone di Renzi è una priorità del paese finché non cambi le regole voti e poi tanto in Parlamento ognuno fa i governi che vuole è andata così negli ultimi anni sempre le faccio un'ultima domanda Renzi la Lega Salvini che fa? non ho la più pallida idea di cosa voglia fare Salvini su questa storia delle riforme penso che anche Salvini dovrebbe stare all'accordo sul sindaco d'Italia cioè il meccanismo che io propongo è si va alle elezioni al primo turno i primi due vanno al ballottaggio vanno Brindisi e Renzi bene chi vince? Brindisi per 5 anni fa lui il capo di governo punto quegli altri fanno l'opposizione poi quando Brindisi andrà bene male alla volta dopo ci sarà un nuovo voto e decideranno gli italiani su questa roba Salvini penso che ci stia sul resto Salvini dice che vuole andare a votare però ragazzi parliamoci chiaro quando Salvini va in Veneto o in Lombardia e trova la piccola e media impresa che per andare alle elezioni a ottobre ha un problema di PNRR che non sblocca i soldi un problema di materie prime un problema di costo dell'energia anche il signor Salvini va in difficoltà quindi la mia opinione lo dico dalla Meroni fino a Letta è che convenga a tutti che ci sia Draghi ancora per 10 mesi con un Draghi bis nella mia opinione poi farà le valutazioni che vuole Draghi che fa tre cose legge di bilancio PNRR e posizione europea i partiti poi faranno la loro campagna elettorale e da marzo o aprile o maggio vedremo chi chi potrà governare questo è la buonsenso pensiamo agli italiani e non ai fatti nostri allora Renzi io la ringrazio di averci dato quella che è il suo punto di vista su quello che sta succedendo in queste ore nel nostro paese grazie grazie per essere stato nella zona bianca buon lavoro a Matteo Renzi